La mia presentazione è anche a nome di Marco Baldini, dell'Arpamarche, per ragioni pratiche di migliore uso del tempo, è stato chiesto di fare la relazione per entrambi. Partirò dalle esperienze di due regioni, la prima è quella dove lavoro, l'esperienza di Piemonte, la valutazione di impatto salute è stata una sfida che ha coinvolto gli operatori della regione da parecchio tempo. Le prime esperienze formative sono state condotte da 2006 in poi. Parlo di esperienze formative perché ci si è resi conto che un'attività affidata alle attività del sistema sanitario nazionale in buona parte, il Dipartimento di Prevenzione, non erano svolte per mancanza di conoscenze, sia sulla metodologia, sia sulla tossicolazione psicologia, sia sull'epidemiologia, da parte degli operatori che lavoravano all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione e che per l'espressione di una serie di pareri in cui era necessario fare valutazioni di risk assessment e valutazioni di impatto epidemiologico non avevano le competenze e le conoscenze per poterle fare. È stata fatta una valutazione congiunta delle necessità e sia l'assessore alla sanità della regione Piemonte in cui era stato presentato la problematica dell'assenza della componente VISA all'interno delle procedure autorizzative di via e di VASA aveva definito anche le problematiche relegate anche dal punto di vista legale del fatto che la mancata espressione di un parere previsto dalle norme portava anche alla configurazione dell'omissione di atti di ufficio. Il percorso è stato piuttosto lungo all'interno della nostra regione, ha riguardato una serie di corsi che ripetutamente nel corso degli anni, prima la formazione ai formatori e poi la formazione diffusa capillare sugli operatori dei territori hanno portato a una maggiore diffusione delle parti metodologiche, sono le stesse che sono state qui presentate, io in questa presentazione non entrerò nel dettaglio dei metodi del calco degli unitrix, dell'applicazione su casi specifici, farò una breve rassegna di alcune componenti principali, ma arrivano all'introduzione dell'attività all'interno delle conferenze di servizi sulle varie procedure autorizzative con livelli differenziati di partecipazione. La VIS come tale, l'applicazione di impatto salute come procedure, è stata inserita come uno degli obiettivi del piano regionale della prevenzione che si è concluso l'anno scorso. Questo è un primo corso che facemmo nel 2006 a cui parteciparono tutti i dipartimenti di prevenzione dell'agenzia e l'assessore alla salute, seguito da una seconda parte di corsi più specifici e approfonditi che riguardavano la formazione soprattutto alle direzioni dei dipartimenti, e tutto è sfociato in un progetto di formazione a lungo termine sulla regione Piemonte, legata soprattutto ai referenti dei dipartimenti di prevenzione con la realizzazione di una revisione dell'attività storica delle partecipazioni delle ASA alle conferenze di servizio, la valutazione del carico di lavoro che questo comporta all'interno del sistema sanitario, la definizione di linee guida operative metodologiche che sono state messe a punto e che contengono a livello regionale le metodologie del risk assessment, del health impact assessment, la differenziazione delle fasi, una proposta in suddivisione dei ruoli e un'attività di assistenza per le problematiche che riguardavano la valutazione del rischio da parte di una struttura specialistica regionale. Questo è il risultato della valutazione delle attività fatte. Nella regione Piemonte in media ci sono 420 via, circa 330 aia, 190 procedure di bonifiche, 71 che riguardano i rifiuti, 174 sulle emissioni dell'atmosfera, in totale circa 1200 conferenze di servizi durante l'anno. Il tasso di partecipazione delle ASL dopo la sensibilizzazione è cresciuto a circa il 60%, cioè il 40% delle ASL non partecipa nemmeno alle conferenze di servizi, in molti di queste in cui partecipa l'espressione del parere è minima, nel senso che l'attività di fornitura del parere ricalca in buona parte quella che è una valutazione che è stata fatta dalle agenzie per l'ambiente. Quindi a fronte di questa eterogeneità all'interno di un percorso formativo si è pensato di costruire delle linee guida, di costruire un database comune delle esperienze di espressione di parere in ambito regionale da parte di tutti i dipartimenti di prevenzione, di creare un gruppo di figure specializzati, costruire una rete di confronto a livello regionale, accumulare e quindi condividere tutta una serie di indicazioni e soprattutto di avere a disposizione una rete bibliotecaria che è stata costruita ed è virtuale, esiste una biblioteca virtuale per la salute in Piemonte in cui tutti gli operatori con accesso a circa mille riviste online gratuite da parte di tutti gli operatori regionali che è possibile tramite iscrizione ed è prevista per tutti gli operatori delle ASL e anche dell'ARPA. I corsi di formazione dei formatori hanno portato a costruire corsi capillari, qui hanno partecipato più di 500 operatori nel corso di due anni delle ASL in cui sono state insegnate le metodologie del Health Impact Assessment, del Risk Assessment, sono state predisposte alcune linee guida nel senso di raccolte di pareri e anche di indicazioni generali da mettere per quanto riguarda le procedure autorizzative sulle cave, sulle discariche, sugli impianti di compostaggio, sulle derivazioni idroelettriche, sugli impianti di abbiomasse, sugli impianti di produzione del calore, sui piani regolatori generali comuni umani, sugli insediamenti zootecnici. Queste sono quelle che sono state completate. Alcune attività che abbiamo in corso. Una riguarda la TAV Torino-Lione. Questa è la deliberazione del Cipe del 2011 che recepisce tutte le prescrizioni che sono state date al proponente. Una di queste, vi sottolineo in particolare, è la numero 130 che era stata chiesta in collaborazione tra noi e i colleghi dell'ASA che lavoravano sulla tematica, era sulla salute pubblica. Al proponente è chiesto di approfondire gli aspetti relativi alla salute pubblica secondo i modelli accreditati della VIS. Cosa che è da fare? Il proponente si è trovato in difficoltà, non esistono indicazioni precise su come deve affrontare questa attività, su come deve predisporre una valutazione della salute pubblica che nel piano originale della TAV Torino-Lione era ridotto a una pagina e mezzo, molto succinta e con pochi elementi e che adesso speriamo riesca a predisporre in maniera molto più ampia e potrà essere valutata quindi da noi in maniera più approfondita. Un'altra riguarda l'incenditore di Torino. L'AIA dell'incenditore di Torino che è partito nel luglio-agosto dell'anno scorso, la prescrizione numero 6 che era stata inserita ex ante, dice che dovrà essere definito un piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello Stato di salute della popolazione residente, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA. Tale piano dovrà comprendere almeno uno studio panel sulla componente occupazionale, studi ripetuti individuali con rivelazioni biologiche questionarie sulla popolazione residente e sorveglianza degli effetti conosciuti sulla popolazione esposta. Questo ha portato a mettere a punto quattro linee di attività che sono in corso, il monitoraggio epidemiologico degli effetti a breve termine in cui si metterà in relazione l'andamento dell'incenditore in relazione all'andamento della mortalità e dei ricoveri ospedaliari della popolazione esposta nel modello di ricaduta, il monitoraggio epidemiologico degli effetti a lungo termine con la valutazione degli effetti sulla corti popolazione esposta, un biomonitoraggio della popolazione con biomarche di esposizione e un monitoraggio sulla salute dei lavoratori. Questa è l'area di ricaduta presente all'interno dell'area torinese, l'incenditore è posto qui e questi sono i modelli di deposizione dei metalli con i due campioni che sono stati sottoposti a una prima fase di biomonitoraggio prima dell'avvio dell'incenditore e si farà il confronto della valutazione e della concentrazione dei metalli PCB e diossine nel sangue prima e dopo l'intrata in funzione dell'incenditore. Quindi è un monitoraggio post-aia ma è previsto all'interno dell'aia stessa prima che venisse definita con la verifica di possibili effetti a breve termine, con verifica di effetti a lungo termine, con il biomonitoraggio e con il monitoraggio del lavoratore. L'attività in corso è stata fatta la prima fase, al tempo T0 prima dell'intrata in funzione e seguono come attività di monitoraggio successiva le altre tipi di attività. La fase di risk assessment, cioè la valutazione di impatto, è stata fatta prima della definizione all'interno dell'aia dei limiti che dovevano essere rispettati dall'impianto. Un'esperienza delle marche. Nelle marche all'interno dell'ARPA è istituita l'osservatore epidemiologico ambientale con delibera di giunta regionale, i cui compiti sono la partecipazione, alimentazione di flussi informativi, controllo di qualità dei dati, valutazioni di risk assessment e poi soprattutto procedure di analisi del rischio a supporto dell'azienda sanitaria regionale e la parte di assistenza all'interno delle procedure autorizzative di via e di VAS che nella regione Marche sono svolte in particolare all'interno dell'ARPA. Qui c'è un esempio che il collega Baldini mi ha indicato da presentare come esemplificativo uno dei tanti che è stato fatto all'interno delle ARPA e Marche. riguarda la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di gas nel giacimento naturale sito nel correttore comunale a San Benedetto del Tronto, in cui la centrale che doveva essere costruita qui viene a collocarsi in un contesto che è misto agricolo, industriale e parzialmente residenziale a tre chilometri dal centro urbano vicino a un nodo ferroviario e ferroviario. Come è stato approcciato? È stata fatta una valutazione del rischio con un approccio di health impact assessment epidemiologico e un'analisi dei dati preliminari dello stato di salute della popolazione. Il risultato dell'analisi preliminare sullo stato di salute ha messo in luce alcuni eccessi di patologie legate alle tipologie emissive e alle possibili patologie correlate mentre la valutazione del rischio ha messo in luce un incremento abbastanza piccolo dei decessi e ricoveri ospedalieri sulla popolazione residente. Il risultato è che l'autorizzazione concessa è stata favorevole e le indicazioni recepiscono l'attività di valutazione dei potenziali impatti che è stata condotta all'interno della valutazione predisposta dall'osservatorio epidemiologico ambientale. Per quanto riguarda la Puglia, è già stato detto che è l'unica regione che oggi è dotata di una legge regionale in vigore su quella che può essere considerata la valutazione di impatto salute. Dal punto di vista normativo, a livello nazionale, esiste solo il decreto Balduzzi-Clini e la legge regionale pugliese, altre regioni non hanno una normativa specifica su questo quindi è già stato presentato a Senato come attività fondamentale dell'ARPA. Quello che volevo ricordare è che nell'ambito della definizione di livelli essenziali di assistenza a cui concorrono non solo gli enti del sistema sanitario nazionale ma anche le agenzie per l'ambiente c'è tutta una parte di attività di tutela della collettività dai singoli dei rischi sanitario degli ambienti di vita dove trovano collocazione completa tutte le attività di cui abbiamo parlato in questi giorni. Controllo di sicurezza degli impianti, negli ambienti di vita, formazione di mappe di rischio ambientale, piani urbanistici, progetti di insediamento industriali, attività lavorative eccetera. Vi consiglio di rivederne. Nel 2008 è stata rifatta una nuova edizione dei LEA in cui la componente a carico dell'ARPA è stata descritta con molto maggiore dettaglio ma poi non è stata approvata per mancata copertura dei fondi da parte della Corte dei Conti nazionale. Il risultato è un'attività congiunta in cui le attività vanno definite con accordi di collaborazione e è prevista anche all'interno dei livelli essenziali di assistenza. C'è una definizione dei campi abbastanza chiara da definire in cui il decreto legislativo 152 assegna all'ARPA il supporto tecnico e all'ASL l'espressione del parere. Questo vuol dire che anche la parte sanitaria è a carico dell'ARPA come supporto tecnico affinché l'ASA esprima un parere o l'ASA dovrebbe esprimere un parere avendo fatto anch'essa un'attività di supporto tecnico. Questo non è affatto chiaro, anzi le interpretazioni sono differenti. C'è da dire che la nuova direttiva europea, la bozza della nuova direttiva sulla via che stavrà per uscire presto, ha una parte sulla salute che è molto più ampia e molto più articolata di quanto sia quella attuale. Questo significa che questa parte avrà ancora maggiore rilievo e su questa bisognerà lavorare ancora di più per integrare quelle attività comuni su questo ambito che sono state discusse in questi giorni. Grazie.